Stefano Candiani, la Lega Nord denuncia un allarme in sicurezza durante l'audizione del Ministro Alfano in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Perché? Diamo semplicemente ascolto alla gente, la gente che è esasperata dalla microcriminalità che ormai sta mettendo sott'assedio interi paesi. Purtroppo ci siamo trovati di fronte a risposte da parte del Ministro Alfano superficiali o addirittura preoccupantemente lontane dalla realtà. Quando si dice ad Alfano attenzione perché ci sono i paesi che stanno subendo la microcriminalità e dall'altra parte c'è stato uno svuoto a carceri che ovviamente ha cresciuto anche la quantità di galeotti in giro. Ci si sente dire che tutto va bene, la vera domanda che ci dobbiamo porre è ma da che pianeta viene Alfano? Vive nel mondo reale oppure preferisce vivere in un mondo vattato e cercando poi di convincere anche gli altri che tutto vada bene? Noi questo gliel'abbiamo detto, la realtà è molto più cruda, la realtà è fatta di microcriminalità e anche grave criminalità che si inserisce nelle istituzioni. Ecco lei l'ha appena accennato, durante la sua audizione il Ministro ha detto che va tutto bene? Il Ministro non solo ha negato la realtà di crimine che si sta impadronendo del Paese ma addirittura ha taciuto su quello che è la grave carenza delle forze dell'ordine andando a dichiarare che ci sono nuove forti assunzioni, anzi assunzioni di massa, più di 2600 agenti che saranno assunti. Gli abbiamo ricordato che quanto lui sta dicendo non sarà in tempo utile ad esempio per Expo perché se anche dovessero partire i concorsi domattina arriveranno comunque entro il 2016. Quindi ci troveremo con un grande flusso di persone nel periodo di Expo in tutto il Paese, segnatamente nell'area nord ma con le forze dell'ordine sguarnite anche nel potere proteggere rispetto alla microcriminalità che sappiamo benissimo si approfitta delle grandi masse di persone. A proposito di forze dell'ordine, il SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia, ha fatto una conferenza stampa in Senato questa mattina dove ha presentato delle proposte. Quali? Delle proposte di buon senso, ad esempio alcune che prevedono che sugli agenti stessi siano posizionate delle microcamere che consentano anche di registrare le situazioni di scontro, le situazioni nelle quali la gente troppo spesso viene preso per il malvivente. Ci siamo trovati di fronte spesso e volentieri a delle circostanze in cui le guardie sono scambiate per ladri e ladri addirittura incensati. Ecco, queste cose non sono da parte nostra ovviamente sostenibili. Ci siamo trovati d'accordo con proposte che stanno dalla parte di chi tutela l'ordine pubblico. Le forze dell'ordine troppo spesso sono prese a badilate da parte di una certa politica di sinistra ben pensante che pensa semplicemente a proteggere i criminali. Guardiamo il caso di Notav. Noi in questo caso diciamo invece sì a proposte che mettono le forze dell'ordine in condizioni di poter essere sicuri nell'operare anche andando a dare delle garanzie di tutela rispetto a successive recriminazioni che possono trascinare poi in lunghi processi i tutori dell'ordine. Venendo invece i ladri e i malviventi in giro per strada liberi.